Allora, se mi consenti, non abbiamo tanto tempo, signor Consule, non abbiamo tanto tempo. Allora, mi permetto di consegnare al mio grande amico e grande Presidente Norvegna, il tricico dei sigilli della città di Trieste, chiave della mia città, Presidente, benvenuto nella mia città e grazie per te che abbiamo fatto insieme, che è stato bellissimo. Se mi consenti? Non funzionato? Il mio consul non è funzionato? Oddio. Con stima e apprezzamento all'insegna degli ottimi rapporti che intercorrono tra l'Italia e la Rovegna, ricordando il ruolo di Trieste, città amica, ponte del dialogo e della concreta collaborazione quotidiana tra le nostre realtà e le nostre genti, per continuare a guardare avanti, sempre insieme, proiettati in futuro europeo, di comune crescita, sviluppo e prosperità. Benvenuto Presidente Panko, grazie per essere qui con noi. Grazie per essere qui con noi. David. Criado. Criado, grazie per essere qui con noi. Vesupi in Gospenga. Grazie. 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 È una frase abbastanza comune tra presidenti, quella di consegnarsi di riconoscimento, mentre questo non può essere considerata una frase e una tradizione, ma si insieme di un profondo rispetto dovuto alla nostra ottima colaborazione. To razumiamo come vaš znac, sposti džupan, da moramo nadelevati na poti, scopno, na poti sožitja, sodelovanja, prijateljstva, vse to, kar zavaruje mir, varnost in blaginio nasi in naši otrovi. S Newsom, stavamo un commento subito. S non ci è strani, ma è che. È il pieno di fronte a risponde in effetti di sorti di scrittura, la una stagione su prima volta di sloveni sloveni generi supporti. Si. Ssit la pesta. Ancim. Ssit. To. Si. Grazie.